Salve cari e carissime e benvenute nel mio nuovo interattivo. Cosa faremo oggi? Allora io vi invito a pensare ad una domanda e con risposta secca vediamo se la domanda è sì o no. Come vedete ho preparato tre varianti, quindi c'è la prima variante è quella della fetta di anguria, la seconda variante è l'arancia, la terza variante è l'uva, quindi voi intanto pensate alla domanda ma vi posso anche tranquillamente suggerire di poter fare, di voler fare, se ci avete da fare, tre domande diverse perché potete fare una domanda per ogni persona o una domanda per ogni situazione di cui volete in qualche modo domandare. Allora io formerò davanti a voi queste tre varianti, ovviamente se non vi va di sono pochi minuti perché non prenderò molte carte, però se voi volete andare avanti per così dire nel video poi io metterò ovviamente i tempi relativi a ciascuna variante. Allora sto utilizzando le sibille italiane, gli oracoli, scusatemi gli oracoli questi qua che ho fatto io, poi abbiamo i tarocchi amici, quindi i tarot friend e poi ancora prenderò sia gli angeli, le risposte degli angeli e poi anche le carte degli oracoli della divinazione, l'oracolo risponde. Quindi voi pensate questa domanda, la risposta sarà secca, sì o no? Comunque insomma un minimo di spiegazione alla domanda per cui è secca e per cui è sì o per cui è no, questa è uscita già la prendiamo, ovviamente la daremo perché insomma prendiamo cinque carte, quindi un minimo di spiegazione ci sarà. Ecco qua ragazze, io ho terminato, quindi queste sono le tre varianti. Ripeto, variante numero uno la fetta di anguria, numero due l'arancia, numero tre l'uva. Scegliete la vostra variante, io passo subito alla prima variante. Eccomi qua, benvenuti, prima variante, quella contraddistinta dalla fetta di anguria. Allora, avete fatto la vostra domanda, andiamo a vedere che risposta ci sarà. Allora, qui abbiamo il bivio. Nel prossimo futuro, sei la mia ossessione, sto male. Dieci di pentacoli, abbiamo la casa, eh sì la casa, la carta dell'amica. Allora ragazze, qui viene fuori una situazione dove voi probabilmente state parlando oppure avete pensato a un rapporto inerente a una situazione stabile. Quindi o qui state pensando a un vostro compagno che probabilmente in questo momento c'è da riflettere, c'è da agire, quindi ci sta una decisione da prendere, oppure si ha paura di assumersi le responsabilità in un rapporto. Quindi qua state pensando a una persona con cui volete fare proprio famiglia, voleste fare casa, oppure potrebbe essere una persona già impegnata. In ogni caso, qui voi volete l'armonia con questa persona. Quindi se avete chiesto, avendo così in testa una persona, nel prossimo futuro con questa persona ci sarà una stabilità, un qualcosa di più reale, la risposta è sì. Però questa situazione non avverrà subito, perché lui o lei ha bisogno di riflettere, deve andare ad agire quando la decisione, la scelta sarà completamente sicura, quando sarà convinto. Ma nel prossimo futuro questa persona probabilmente prenderà questa decisione. Abbiamo i 10 di denari, che è una carta molto importante, sia per quanto riguarda i sentimenti, ma anche se è una domanda, per esempio, relativa al lavoro. Se è una domanda relativa al lavoro e voi avete chiesto se ci sarà un miglioramento, se troverete un nuovo lavoro, o se ci sarà, appunto, la possibilità di una promozione, anche qui la risposta è sì. Ovviamente non subito, dovete prendere delle decisioni, ma voi siete così presi da questo lavoro, che sicuramente nel prossimo futuro avrete il vostro risultato. Ma ritornando ai sentimenti, in questa variante non solo è sì, ma vi voglio anche dire che comunque questa persona ha per voi una vera e propria ossessione. Perché comunque vi considera una donna armonica, una donna che sapete dargli stabilità, armonia e tutto. Quindi anche se potrebbe essere indeciso, perché la carta del bivio, vedete, ci parla proprio di una scelta, di doversi assumere una responsabilità, come se si ha paura un po' di buttarsi in questa situazione, però questa persona ossessionata da voi sicuramente prenderà la scelta di un sì. Quindi nel prossimo futuro farà questa scelta e la scelta sarà sì, perché comunque per lui voi siete una persona importante. Quindi sì è la risposta secca. Grazie per essere stati con me e passo alla seconda variante. Ricordo che potete scegliere anche le altre varianti sotto altra forma di altre domande. Grazie, un like mi raccomando, iscrizione per sostenere il canale. Un abbraccio di luce al prossimo interattivo. Ciao! Eccomi qua, benvenuti voi, seconda variante, quella abbinata all'arancia. Quindi avete fatto sicuramente la vostra domanda, vediamo la risposta. Qui c'è Benedetti, la carta Benedetti. Pensa a positivo. Poi abbiamo ho capito di amarti nel tuo silenzio. Abbiamo ancora la carta del sei di spade. E infine abbiamo qui la carta del messaggero. Allora ragazze, chi ha scelto questa seconda variante, qualsiasi domanda voi avete fatto, la risposta è assolutamente sì. Intanto qui si può parlare ovviamente di una situazione, cioè si parla di una situazione di amore. Però potrebbe anche esserci una situazione lavorativa. Poi vi spiego brevemente anche la situazione lavorativa. Parliamo, diciamo, della situazione sentimentale, perché secondo me ha più possibilità di essere una domanda inerente ai sentimenti. Allora, se qua avete domandato se una persona del vostro, diciamo, passato, anche del recente passato, anche del presente, ma con cui vi siete allontanati, si ritorna, la domanda è sì. E scusate, la risposta è sì. Allora, questa domanda è calza a pennello per chiunque abbia domandato è innamorato di me, torna da me, ci riappacificheremo, ci sarà una nuova situazione che si apre fra noi due. Insomma, si parla di una situazione allentata, o proprio di silenzio, di freddezza, o proprio completamente chiusa, che però energeticamente è rimasta sempre aperta. Quindi, se voi avete fatto una domanda di questo genere, qui assolutamente sì, perché qua, dopo un momento di allontanamento, vedete, questo sei di spade, probabilmente per tensioni questa persona si è allontanata da voi, o voi vi siete allontanata da questa persona, perché forse volevate qualcosa in più, forse volevate, perché insomma, se questa persona ha capito di amarvi con il vostro silenzio, probabilmente prima non vi dimostrava un grande amore, lo ha capito solo dopo, quindi presumo che qua ci sia una situazione di malcontento nella relazione, dove voi vi siete allontanate, però questa persona nell'allontanamento ha incominciato a capire il vostro valore. E infatti qua viene la carta Benedetti. Questa carta ci parla proprio di un dono imprevisto, di una fortuna inattesa e di un'unione benedetta. Quindi qua ci sono proprio guadagni da riscuotere, risoluzioni di ogni ostacolo. Quindi se parliamo, appunto, avete chiesto riguardo i sentimenti, tornerà da me, è ancora innamorato di me, ci sarà una rapacificazione, ritorneremo felici come prima, insomma tutte domande relative a un allontanamento e a un ricongiungimento, la risposta è assolutamente sì, è proprio alla grande. Se invece è una domanda dovuta magari al lavoro, e magari voi avete così passato un periodo dove vi siete, siete stati allontanati dal vostro lavoro, avete perso il lavoro, insomma, e quindi poi magari avete capito nel lo stare lontano da questo lavoro, dal lavoro che appunto voi amate, quello che fate a livello lavorativo, qua sarete benedetti, pensate a un positivo, perché ci sarà una notizia importante, qua c'è un guadagno, una risoluzione a questo ostacolo. Quindi qualsiasi cosa, diciamo, avete chiesto, sia nel lavoro o nell'amore, o se c'è anche una relazione con cui, avete una relazione ma ci sono degli ostacoli, delle situazioni un po' così di tensione, anche quello si risolverà, qualsiasi ostacolo, che la carta benedetti proprio vi benedice questa stesa. Per cui, ragazze, chapeau, anche qui la risposta è sì. Ora, vi voglio dire, andate a vedere anche le altre, diciamo, domande, potete scegliere anche più domande, con più, diciamo, varianti, con più domande. Poi, vi invito a mettere un like, a scrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, così mi aiuterete a sostenere il canale. Ragazze, un abbraccio di luce, al prossimo interattivo. Ciao! Eccomi qua, cari e carissime, benvenuti nella terza variante, quella abbinata alle pigne d'uova, e mettiamo qua. Allora, voi sicuramente avete fatto la vostra domanda, io non so che domanda è, e quindi andremo a verificare la risposta. Allora, viene la carta Orfani, medita per trovare una risposta, qui qualcuno ha le idee chiare, abbiamo la carta del 3 di coppe, interessante, e abbiamo la carta della prigione. Allora, guardate ragazze, io qua, in questa, diciamo, ultima variante, direi che la risposta è no, e vi spiego perché. Perché vedete, qua vediamo una persona profondamente, eh, legata, imprigionata, vedete, qua c'è stata una perdita molto, molto forte, abbiamo la carta della prigione, quindi una perdita di qualcuno, se domandate per un fidanzato, una persona a cui voi tenevate tanto, un marito, insomma, una frequentazione, un innamorato, qui sicuramente c'è stata la chiusura, quindi qua c'è stato proprio l'abbandono, e voi siete molto, diciamo, dispiaciuti da questa cosa. Voi sognate, sperate ancora, di trovare una risposta, di avere, eh, questa, eh, risoluzione, però questa persona probabilmente si è allontanata per, eh, la presenza di una terza persona, quindi lui, ha le idee chiare su quello che ha fatto, che viene proprio la carta, meditare, eh, di trovare una risposta, e dei chiare tre di coppe, quindi lui, tutto sommato, anche se dispiaciuto, perché comunque, sembrerebbe anche lui dispiaciuto, però lui ha dovuto fare una scelta, ha dovuto schiarirsi le idee, doveva trovare una risposta, e la risposta l'ha trovata, nel andare in questo, diciamo, come dire, eh, qui c'è un triangolo, eh, e quindi sicuramente avrà scelto, un'altra persona, che non siete voi, quindi se voi avete chiesto, su una persona, se ritorna, una persona perché vi ha lasciato, una persona perché è finita, una persona perché se vi si è allontanata, dalla relazione, la risposta è che, eh, ha trovato, diciamo, un altro interesse, in un'altra persona, che non siete voi, per cui, eh, insomma, ha avuto le idee chiare, di fare la sua scelta, ovviamente questa scelta, è andata a vostro discapito, se invece si parla, per esempio, di una situazione di lavoro, anche qui, eh, voi, eh, dovete, eh, sicuramente se qua c'è stata una situazione, che vi hanno licenziato, oppure avete perso il lavoro, oppure avevate una situazione, comunque, riluminativa che non avete poi più avuto, qua dovete, eh, meditare per trovare la risposta di questa, diciamo, di questa perdita, dovete schiarirvi le idee, dovete cercare di avere più fiducia nel prossimo, di essere un po' più social, diciamo così, magari, darvi da fare, mh, uscire, avere degli incontri, e non vi mettete in prigione, perché se no, così peggiorate la situazione, e voi vi sentite proprio isolate, abbandonate, e quindi come se non sapete, che posto occupate, nella società, nella vita, eccetera, quindi state molto depresse, e quindi dovete meditare, per trovare la risposta, e chiarirvi le idee, quindi, questa variante, purtroppo, non è molto positiva, la risposta è no, sia che si parli di lavoro, sia che si parli di amore, anche per quanto riguarda l'amore, cercate di sollevarvi da questa pigionia imposta, perché voi sicuramente vivete un trauma dell'abbandono, perché comunque, la carta orfani, ci parla anche di questo, no, di vivere male, gli abbandoni, diciamo, sentimentali, quindi qua dovete anche, eh, meditare, eh, su questo vostro, diciamo, sentire, così, forte, perché anche se una persona ci abbandona, insomma, noi non dobbiamo andare proprio, così, sentirci, addirittura, abbandonati da tutti, no, tipo orfani, quindi dovete trovare anche la risposta per poter comunque lavorare su questo vostro, diciamo, eh, per così dire, trauma dell'abbandono. Ragazze, questo è tutto, vi ringrazio di essere stati con me, vi invito a mettere un like, o iscrivervi al canale per sostenere il canale, se vi va, ovviamente, un abbraccio di luce dalla vostra Zaira, al prossimo interattivo, ciao!